Quest'anno è stata la prima sconfitta sul campo e quindi pesa perché non siamo abituati a perdere, ma era anche una partita particolare perché il mister ha deciso di provare alcuni innesti nuovi che arrivavano molti dall'undici, non sapevano i movimenti, erano pochi gli allenamenti che hanno fatto con noi e quindi immaginavamo che potesse essere una partita ancora più difficile. Poi le Sex Bomber sono state brave, conoscevamo il livello con cui ci andavamo a scontrare e quindi ci sta a perdere, hanno meritato, noi abbiamo lasciato andare gli ultimi minuti, diciamo che il risultato non è veritiero perché il 4-1 non ci sta, anche perché hanno segnato 3 gol negli ultimi 4 minuti, però brave loro e ci servirà per migliorare i nostri difetti. È stato un anno calcistico che sicuramente non dimenticherò, ho vinto la Serie C con il Milan Ladies e a gennaio sono arrivata all'HSM dove i mister e le ragazze mi hanno accolto a braccia aperte, è stata un'esperienza nuova e bellissima per me far parte di questo gruppo, è stato bello soprattutto segnare nelle partite più importanti grazie alla squadra che mi ha sempre supportato e aiutato anche nelle partite dove magari non segnavo, è stata una bella stagione e spero sempre di poter far meglio con gli allenamenti, con i movimenti perché io arrivo dall'11 e quindi per me è un nuovo mondo questo. Volevo salutare anche l'altro bomber della squadra che è Giorgia che purtroppo si è infortunata e mi ha reso più semplice giocare come punta. Giochiamo sempre per vincere però non è sempre detto che ci si riesca, nell'invernale abbiamo fatto bene, abbiamo vinto, adesso però ci sono nuove squadre, nuovi stimoli per noi che eravamo anche stanche di giocare sempre contro le no name, che saluto, ci sono tante ragazze nuove nella nostra rosa ed è difficile poterle integrare al nostro gioco e soprattutto per il poco tempo a disposizione, degli allenamenti, delle partite, però speriamo di poter allenarci sempre di più su quelle che sono le nostre lacune e la partita di mercoledì che abbiamo perso ci ha aiutato ancora di più a poter migliorare degli aspetti che ci serviranno. Ciao! Ciao!